la connessione di gioco e gruppo questo giocatore è privata puoi partecipare solo un messaggio d'invito t'ho invitato t'ho invitato te l'invito partecipa tu sei di diallo 50? eh a diadomi si perchè non ho sblocato il prestigio perchè non mi va con l'armetta scrausa guadagnatevi la paga allora abiliamoci a giocare un gioco senza punti di riferimento mi hanno ucciso l'ho fatto bene basta con queste risposte scontate mi aiuto ovviamente mi hanno guardato e sono morto mi sono anche vendicato per adesso ma ma importaci stavo che spara uno e spuntato un andro così a tradimento sono moruto anch'io però in compenso bene ma ecco amic divieto amic ciao amic aiuto ma che c... ok seconda morte vedete io potrei andare peggio guarda se muoio con qualcuno che mi spara sto contento eh sono morto solo con i colpi in corpo a corpo ma quanti cazzo ma quanti cazzo eeeh ma sta all'infrettato eh cazzo dove lancio gli approvigionamenti e poi e poi eeeh ecco cazzo ho fatto ben tre kill e due assist ma che roba dunque ma a parte tutto prima impressione è quella che gioca quick cazzo eh si e beh il genere è quello che volevo lo più dire eh nani che vedi 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 da te che moris facilmente chesso ho 11 direi credibili ma le tutte queste sempre cose del genere ma non sarà la sposta alla gente buona e non sapere che contrib analyse s tutto molto stra pare che attuale acquisto sparando pontino i dûmo i due eeeh ho fatto fuori o ci mettono 20 minuti ho fatto fuori il mio primo tizio con un pugno che violento manco consigliuri ma come cazzo e che cacchio oh che figo il mio visore termico nooo m'ho ucciso questo bastardo zoom zoom non c'ho capito un cazzo però come m'ho ucciso che cazza fuori andiamo da lui a sinistra dove sto? un altro ucciso un altro di colpi m'ho ucciso lui a me aia ma ho capito che so ma ho sferato con l'armare corpo a corpo ma ho tirato fuori dalla stanza eh zavuto zavuto come scarto come smart guarda 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 patata 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 questa volta ho fatto due kit ma forse 35 madonna mamma posti fortuna eh ma che roba ciao amic ciao amic picchio amic sparò amic sparò amic paura eh paura eh ma guarda metti più paura dal vivo sinceramente perchè il mio pistolone dal vivo è peggio di quello del gioco assist chi era? non so uno che ha scomparso qui dal muro il tuo cazzo è andato guarda te è andato è scappato allo stante va a zavuse non vedi a gente in do? non lo so uno è morto e ho fatto assist non c'ho granate e che cacchio e' morto e' morto ma fin i corpi oi ho tre ore che ti sparo assist vaffangu ah stavo sparando a zavuse visto che c'è no quanto me lo dico quando mi incastro nelle porte regicida bruciapelo ora me la paghi ritorno qualche altra cosa? bello guarda c'è la zavuse e' vabbè e' vabbè eeeh che bucio di culo via 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 mi sa che stiamo giocando contro degli italiani comunque perchè? il distruttore di culi ah si non l'ho visto allora può essere desidero ho ucciso qualcuno col colmico colmico coso stupido la quella bombetta stupida ecco che voglio io sistema antiuomo eeeh ho preso un'assistica nooo vai che cazzo